Buonasera a tutti voi. L'impulso molto freddo in quota a meno 35 gradi a circa 5000 metri è in Francia e supererà le Alpi entro la mattinata di domani per poi attraversare il centro nord della penisola entronotte. Durante il suo passaggio favorirà precipitazioni distribuite in modo sul territorio nazionale ma con maggior interessamento delle regioni centrali a partire dalla seconda parte di giornata. In Abruzzo nello specifico avremo per domani tempo ancora soleggiata al mattino dal pomeriggio le prime nuvole sull'Aquilano e anche le prime precipitazioni nevose oltre i mille metri. In serata breve fase di maltempo con piogge temporali su tutto il territorio regionale e quota neve in discesa fin sulla bassa montagna a 7-800 metri. In caso di fenomeni più intensi fiocchi anche più in basso. La ventilazione di libeccio già in intensificazione in queste ore è in ulteriore rinforzo domani su buona parte della regione. I mari da poco mossi in mattinata molto mossi in serata notte di domani. Le temperature di questa notte molto miti e comprese tra 6 e 14 gradi. Le massime di domani in leggera diminuzione ma ancora molto miti e comprese tra 11 e 17 gradi. È tutto per la meteo un saluto da Marco